Una tappa pirotecnica vinta grazie ad un vero e proprio capolavoro, quello di Peter Sagan che taglia in solitario il traguardo di Tortoretolido dopo oltre 170 km di straordinaria inattensità. Con lo Slovacco ultimo ad arrendersi del gruppo che prende il largo a ora di pranzo, ma stupendo a resistere ai fantastici muri della nostra regione, alla pioggia, alle salite impervie, benché corte chilometricamente. Finito il lungo digiuno, il tre volte campione del mondo dopo 461 giorni firma un'impresa perché dopo essere rimasto con Ben Swift e aver staccato i compagni di fuga tra i quali il nostro Dario Cataldo resiste a Peio Bilbao che dopo la prima ascesa di Tortoretto sembra poter rientrare sull'inglese e lo Slovacco. Lo spagnolo della Bahrain McLaren ci prova in compagnia di Villella prima e in solitario poi in discesa quando Sagan ha ormai salutato anche Swift e si è lanciato all'assalto del successo conclusivo. Proprio nell'ultima discesa invece contrattempo pesante per Jakob Fulsang che fora e non ha l'ammiraglia vicino, serve la bici di Felline per riprendere la corsa. Foratura come qualche chilometro, prima era capitato ad uno scatenato Domenico Pozzovivo che rientra e addirittura prova ad allungare ma alla fine arriverà coi migliori. Come Peio Bilbao che dopo aver sognato di rosicchiare i secondi alla maglia rosa all'ingresso di Tortoretto deve rialzarsi perché i big lo riprendono e lasciano strada libera a Sagan che alza le braccia al cielo di Tortoretto. Secondo McNulty, terza la maglia rosa Almeida con una frazione semplicemente stupenda dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista delle emozioni pressoché infinite che regala la regione Abruzzo. Perché già tra Città Sant'Angelo e Silvi la gruppa Madi De Mar sembrava voler chiudere sulla fuga per non permettere allo stesso Sagan di guadagnare punti per la maglia ciclamino. Quasi come se il francese sapesse a più di 100 chilometri dal traguardo che il ciclista della Boransgrohe avrebbe completato l'impresa in una giornata che aveva visto in mattinata l'addio della Mitchelton Scott dopo la positività di Samuel Yates e di quattro compagni di squadra e il forfè della Jumbo Visma dopo il tampone positivo di Kreuzweg. Out anche Michael Matthews della Sunweb con la squadra di Indley e Kelderman che però è regolarmente allo start. Domani, frazione per velocisti da Porto Sant'Elpidio a Rimini.